Ora cercheremo di tenercela, di difenderla con le lunghe e con i denti. Per riuscire a portarla a casa. L'ultimo 30 km non mi ha dato neanche un cambio, quindi io voglio vincere le gare, ma non così. Per una squadra pro tour, beh, niente. E ci prepareremo quindi... Si è perso secondo me. ... ... ... Come c'hai andato già? Ehm? Tempo eh? Di quanto? Cosa voglio fare? Niente, brava, 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 brava. Agila, muovila, muovila. Sì. Bravo. Ehm? 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 Due nomi che hanno vinto questa corsa al primo anno, Damiano Cunego e Diego Ulissi, ti dicono qualcosa? Sì, veramente. E adesso i prossimi treguardi quali saranno? Si vedrà. Intanto ci godiamo questa vittoria. Sì, esatto. Grazie. Felicitazioni. A San Gino e Catantino. Volata? Sì, volata. Fuga doveva essere e fuga è stata nella terza frazione del 51esimo giro della Valle d'Aosta. Suaza Arango di sfilare le insegne del primato a Manuel Senni. Ad un anno di distanza dalla macchina dell'Italia. Che venisse un colpo. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Grazie. 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 Grazie.